qualche giorno fa ho pubblicato un video su migliori robot del 2021 e ieri mi ha contattato ecovax mi ha detto isan perché non fai sapere ai tuoi iscritti la nostra migliore offerta sul prodotto che ti piace di più e te ne regaliamo uno e io gli ho detto va bene ok regalatemi uno che io ne avevo promesso uno da tempo alla mia amica flavia ciao flavia però dovete regalarne un altro anche agli iscritti del canale quindi questo è per flavia e invece questo per voi bene apriamo il pacco di flavia vi faccio vedere di cosa stiamo parlando sia per quanto riguarda l'offerta di ecovax che la migliore offerta anche se prima del black friday perché il prezzo della n più oggi con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video ma anche sul canale telegram del quale ne parleremo dopo che ha un ruolo fondamentale per scegliere chi a chi andrà questo regalo e esattamente come il prezzo di domani nel black friday solo che qua se lo prendete oggi con il coupon sconto avrete in regalo sei sacchetti di questi della stazione di svuotamento ed essendo un prodotto spedito da amazon se lo acquistate da oggi avrete eccezionalmente un periodo esteso per un eventuale reso quindi lo provate se non vi piace entro il 31 di gennaio potete renderlo gratuitamente ad amazon e soprattutto se domani o durante black friday troverete un prezzo minore rispetto a quello che troverete nella descrizione del video con il coupon sconto ecco potete renderlo tranquillamente e prendere quell'altro e dico questo perché ecovax mi hanno assicurato assolutamente che questo è il prezzo minore che si potrà mai trovare e mi fido però non si sa mai ecco ve lo dico bene se acquistate l'n8 ovviamente il prezzo minore ma non avrete i sacchetti della stazione di svuotamento perché non arriva con la versione n8 ma arriva solamente con la versione n8 più con la quale arriva il robot la stazione fantastica di svuotamento automatico super mega utile per non fare niente a casa perché ci pensa a tutto il robot naturalmente tutte queste cose che state vedendo in questo momento saranno spediti direttamente da parte mia nel pacco sigillato che ho qui sotto a uno di voi adesso vi dico come abbiamo i panni di microfibra monouso che io solitamente utilizzo e riutilizzo abbiamo anche quello che si può utilizzare fino a 50 volte ovviamente dipende dal vostro pavimento abbiamo un sacchetto in più rispetto a quello già installato all'interno il manuale di istruzioni il cavetto di ricarica e alimentazione della stazione di svuotamento e abbiamo anche due spazzole rotanti che se non ricordo male sono di scorta perché ce ne sono altri due nell'altra scatola del robot beh la partecipazione è molto semplice basta iscriversi al canale telegram che troverete nella descrizione del video dove troverete anche il link coupon sconto al robot che mi è piaciuto di più nel 2021 come rapporto prezzo qualità per quello che offre dovete iscrivervi e monitorare le offerte di oggi che non saranno tante e una volta che avete ricevuto la notifica dell'offerta ecovacs che replico sul canale telegram dovete andare subito a commentare sotto nell'offerta andrò a scegliere a caso oggi dopo una mezz'oretta dalla pubblicazione dell'offerta una persona che ha commentato e farò una chiamata video a quella persona quindi mi raccomando se rispondete a me al telefono vuol dire che avete accettato le le condizioni di privacy perché riprenderò con il cellulare e farò uno short che pubblicherò stasera quella videochiamata con il vincitore se avete domande e lasciatele giù nello spazio commenti e spero di aver fatto una cosa gradita commentate ciao alla prossima